Ciao a tutti, noi siamo BlazeUp Studio e Savoy Connection, direzione artistica del Genova Hip Hop Festival che si terrà il 5, 6, 7 gennaio presso l'RDS Stadium. L'idea nasce da un progetto di Elisa Serafini, assessore alla cultura, al marketing e alle politiche giovanili per attirare i giovani da tutta Italia. Noi da 7 anni a questa parte lavoriamo nel mondo dell'Hip Hop e quindi ovviamente abbiamo subito pensato di fare un evento Hip Hop. Abbiamo subito voluto coinvolgere anche Savoy Connection. Savoy Connection si lega a BlazeUp per la creazione di questo festival, per creare una line-up d'eccezione perché abbiamo preso dei pezzi grossi del panorama Hip Hop italiano, li abbiamo riuniti in due serate. Abbiamo nomi del calico di Bassi Maestro, Enzi, Google Boys. Nel nostro team fa parte anche Marco Mellace denominato B-Boy Marchino che è sicuramente riconosciuto a livello italiano come un B-Boy molto forte e il quale fa parte di una crew di San Francisco e sicuramente ha una credibilità molto forte sia in Italia che anche in giro per l'Europa. C'è interesse sicuramente da tutta Europa per quanto riguarda la breakdance. Abbiamo già molti crew interessati a questo festival che vengono dalla Germania, dall'Austria, dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Finlandia. Il festival inizierà il 5 gennaio alle ore 16 perché abbiamo deciso di fare le selezioni del contest di freestyle nel pomeriggio del venerdì. Alla sera invece ci saranno tutta una serie di esibizioni. Anche al sabato si inizierà al pomeriggio alle 16 perché si faranno le fasi finali del contest di freestyle al pomeriggio. Nella terza giornata del festival invece ci saranno due contest di breakdance. Uno crew verso crew con 2000 euro di premi mentre l'altro uno verso uno con 1000 euro di premi. L'idea di questo festival va a unire delle generazioni che normalmente non si troverebbero mai allo stesso concerto. Quindi è un momento oltre che di condivisione è anche un'unione generazionale che parte da chi è sui 50 a chi verrà con i genitori. Io sarò il presentatore ufficiale di questi tre giorni di festival, sono molto orgoglioso, onorato e spero di fare un buon lavoro e di portare avanti Genova in tutta Italia. Sono molto più importanti i valori che trasmettiamo e che vogliamo trasmettere attraverso questo festival che sono unione, condivisione, antirazzismo, dare spazio ai giovani. Dare la libertà di esprimersi alle persone, di condividere questa arte perché l'arte è la prima forma di rivoluzione. Di vedere le persone soddisfatte, di vedere finito l'evento col sorriso in faccia. Potete trovare tutte le informazioni riguardanti il festival sulla pagina Facebook, Instagram oppure sul sito www.genovaipoffestival.com dove potrete acquistare i biglietti. Ci teniamo a ringraziare Elisa Serafini che ci ha dato la possibilità di creare questo progetto, il Comune di Genova, 2000 grandi eventi che si occuperà della realizzazione di questo festival e tutti coloro che collaborano e supportano questo progetto. Mi raccomando, 5, 6, 7 gennaio, RDS Stadium, Genova Hip Hop Festival. Ci vediamo. Senti dei rei! Senti dei rei!